Paolo abbiamo completato i nostri lavori proprio in conclusione, con riferimento a quello che diceva adesso il collega Gandolfi, il fatto che io mi ricordo le prime volte in cui ci siamo incontrati, lo dico a beneficio anche della stampa presente, dei media presenti, con molti dei familiari, dei rappresentanti, delle associazioni c'era una diffidenza nei primi tempi perché dice ci raccontate che interverrete, che farete, mi ricordi Paolo in quelle prime occasioni e si è sciolta, è diventata buon dialogo e oggi posso dire con molti di voi che c'è un rapporto di stima e di amicizia reciproca, questo da soddisfazione di far parlamentare in generale a chi prova a dare il proprio contributo nell'azione politica e sociale e però trovarsi nelle istituzioni, vedere che c'è un riscontro nel lavoro che si fa e questa è una cosa molto positiva, una cosa che ci riempie bene, diciamo, la l'attività che svolgiamo e che portiamo avanti. Quindi non perdiamoci di vista, ecco, la battuta non deve essere questa. Stiamo... Stiamo solo se sono dei giornalisti... Ah, se c'è qualche domanda sicuramente, esattamente. Se c'è qualche domanda... Ok, è chiaro, hai ragione, hai ragione. Giustamente io pregherei soltanto di dare priorità alla stampa, poi magari piccole battute se qualcuno volesse farle, chiamiamo tempo fino alle 14, magari troveremo un'altra occasione per fare un convegno e ampliare i ragionamenti. Prego. Stampa. Prego. Buongiorno. Si parlava forse all'inizio dell'estero. In qualche paese è stata già istituita questa giornata, oppure no? E l'altra domanda, giustamente nella proposta di legge, parlate di campagne di comunicazione e prevenzione. Avete già qualche idea? Allora, per quanto riguarda le istituzioni già all'estero, l'ho detto nella premessa, lo ribadisco, sì, sono già tantissimi i paesi che hanno istituito la propria giornata nazionale che di fatto diventa per la proprietà transitiva la giornata internazionale della memoria. La data appunto è giusto che sia un'evoca, cioè che sia la stessa, terza domenica di novembre, altrimenti rischiamo un provvedimento arlecchino che non avrebbe senso, noi dobbiamo metterci al passo e quindi da questo punto di vista c'è un tema. Per quanto riguarda la campagna di comunicazione, poi magari Paolo dirà qualcosa in più, io credo che il richiamo che faceva la collega Morani alla televisione pubblica, quindi alla RAI per prestare particolare attenzione, perché il servizio pubblico ha un quid in più di dovere e di responsabilità verso di noi cittadini, ecco io credo che potremmo già sfruttare questa occasione magari per una visione in commissione, se lo volesse, del nuovo direttore in generale e per chiedergli appunto cosa ha intenzione di fare il servizio pubblico in questa direzione e mi auguro anche i media di carattere privato, perché pure loro svolgono e ricoprono una essenziale ed irrinunciabile funzione sociale. Paolo? Sì, sulla campagna di comunicazione, io penso che succeda, ce ne sono alcune che sono già in corso da parte del Ministero di Trasporti, del Ministero degli Interni, da parte di ACI, da parte di Ania e di altri soggetti interessati. Credo che il punto sia questo, immagino intanto che una campagna di comunicazione la potremmo provare a programmare, e questo è anche un appuntamento per tutti noi per trovare poi gli elementi, in vista appunto della prima giornata, supponendo che tutte le cose vadano in ordine. Campagna di comunicazione che magari coinvolga il metto di comunicazione. Il tema? La collega Vestali prima ha parlato e ha concentrato il suo intervento prevalentemente sui fatti più eclatanti, le cosiddette strade del sabato sera, un argomento su cui si è lavorato anche molto. Ora, noi abbiamo un altro fronte che dobbiamo riuscire ad aprire rapidamente, senza togliere l'attenzione da quello, ma dando un'altra risposta forte che sono tutti i danni che sulla strada arrivano da comportamenti che non sono estremi. Sono comportamenti figli che possono essere fatti di ognuno di noi, da piccole distrazioni. Ora, lo diceva Minucci all'inizio, c'è una nuova peste sul terreno della guida, che è quella dell'uso degli smartphone. Probabilmente ci sono dei dati ovviamente che non sono sempre attendibili perché sono frutto di indagini, perché non è come la velocità eccessiva o altre cose che puoi misurare esattamente quando avviene l'incidente. Sono frutto di indagini e quindi sono molto variabili, però è probabilmente la principale causa di distrazione quando ci sono degli incidenti gravi con morti e feriti. Quindi è probabilmente quello un grande lavoro di comunicazione che dobbiamo fare di volta a tutti, perché non è un difetto che hanno solo alcuni e non lo si fa solo in determinati momenti. Se noi facessimo una statistica qui dentro all'alzata di mano a chi ha almeno una volta preso in mano il telefonino e fatto qualcosa mentre stava guidando, purtroppo avrebbe un risponso che non è buono. Perché noi tutti sottovalutiamo quello come tante altre piccole cose che poi in realtà, soprattutto in ambito urbano, possono generare la morte, nel caso del telefonino anche sull'esturbano va detto. Ma altre piccole distrazioni o altre piccole infrazioni che consideravamo bagatellari possono essere invece molto pericolose. Direi che il telefonino è forse l'uso del telefonino, la distrazione per l'uso del telefonino o per altre cose simili. Guardate c'è la notizia di oggi di uno che è andato a sbattere perché contro tra l'altro la macchina di polizia perché cercava il Pokémon. Io non ho ancora capito cos'è questa cosa del Pokémon perché sono vicino ai 50 anni quindi comincio a perdere le cose, le case più vicine però ho capito che c'è un altro problema che dobbiamo affrontare. In generale il tema è che dobbiamo tamponare questa falla che si sta aprendo sul fronte dei visti. Grazie. No 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 no, ti lo dico io perché vorrei che ci fosse una risposta precisa al Lanci perché questo è il Lanci che lo chiede. Cioè se noi un domani saremo imputati di omicidio stradale nessuno ci tutela, diciamo così, sarebbe colpa nostra, ma perché gli enti proprietari delle strade, i responsabili della progettazione, della non omongolocazione delle infrastrutture non debbano essere condannati anche per reato di omicidio stradale. Vorrei che voi su questo desse una risposta. Secondo, sulla giornata mondiale, per una precisazione, dato che nella proposta di legge non è citata e che molti non lo sanno. Nel 1995 la nostra federazione europea, la Federazione Europea Invitin della Rio, ha promosso la giornata mondiale che si è estesa in tutti i continenti. Nel 2005 Marseille Ghi, fondatore della Fedra, che è stata festeggiata nel 25esimo anniversario, proprio il 6 di settembre scorso a Bruxelles, ha promosso con l'ONU questa giornata. La giornata è unica, la terza domenica di novembre, non è che si può dire che, come diceva Emiliano, si fa il 5, è la terza domenica di novembre e questa deve essere la storia della giornata. L'ultima cosa che vi vorrei chiedere, perché l'avevamo presentato, se vi ricordate, a luglio dell'anno scorso, nella mozione che poi fu declassata d'ordine del giorno da parte, non certo che responsabilità vostra, presentata a 55 deputati del vostro gruppo, e ci sono due temi importanti. La legge d'assistenza alle vittime, Fiorella Toro che dirige il Dipartimento Vallone, Belga, lei fa assistenza alle vittime, in molti paesi ci sono già. Noi apriremo in autunno, grazie all'Age, un centro nazionale di assistenza che verrà inaugurato dall'ambasciatore dell'ONU per la sicurezza stranale, Jean Todd, ma non è lo Stato ad aprirlo. È un'associazione privata di interesse pubblico, insieme ad altre associazioni private. Noi, Paolo, Emiliano, dobbiamo far presto, ci sono due gruppi parlamentari che hanno un'altra grande maggioranza nel Parlamento, voi e il Movimento 5 Stelle. Io ho parlato a quei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, lasciamo perdere Gigi Napurpetta e Berlusconi che vi scambiate responsabilità su questo. Siete d'accordo sulla legge per l'assistenza alle vittime? Troviamoci subito per definire insieme questa proposta. Voi e il Movimento 5 Stelle, l'aperto a tutti, ma partiamo da questa maggioranza solida per farla provare in tempi rapidi. Prendiamo spunto da quello che dice Giuseppe Cuccioli, lo sai, lo sapete benissimo che non abbiamo problemi di pronuncinitura politica, noi vogliamo risolvere le questioni, siamo a disposizione assolutamente su questo terreno disponibili ad arrivare a un punto di sintesi abbastanza facilmente. Vai. Allora, su quel punto c'è necessità di grande chiarezza, perché in realtà stiamo vivendo dentro un polverone prevalentemente nato da interpretazioni che alcuni quotidiani hanno dato, che poi dopo i quotidiani e secondari hanno preso e mettendo così in agitazione i sindaci ci siamo trovati poi a dove gestire questa cosa. Allora, il punto è questo. Prima non è che non esistesse l'omicidio stradale, esisteva una cosa che nessuno di noi chiamava l'omicidio stradale, che era l'omicidio colposo con l'aggravante dovuto all'infrazione del codice della strada e aveva i suoi reati aggravati rispetto all'omicidio colposo base. Questi reati aggravati sono rimasti e sono rimasti con l'identica definizione. Siccome la definizione è per infrazione del codice della strada, le infrazioni del codice della strada le può fare un automobilista, ma le può fare anche il proprietario della strada. Ergo, prima e dopo l'approvazione della ulteriore aggravante, i proprietari delle strade, i responsabili delle strade, i comuni, l'ANAS, la società di autostrade, eccetera, erano e continueranno ad essere responsabili se alcune delle cose fatte sono valese, violazioni al codice della strada relativamente ai danni che questi possono provocare. Nulla è cambiato nel livello di responsabilità che hanno i sindaci, che rimane tale, sindaci, presidente di provincia, eccetera, eccetera, è tanto è vero che ci sono sindaci, tecnici, funzionari di varie amministrazioni che sono sotto processo fenomeni di questa natura. Non è cambiato nulla. Le due fattispecie che abbiamo introdotto e che chiamiamo come reato un uccidio stradale sono scritte come tali e dentro c'è scritto quali sono le cause che possono generare quel reato, quali sono le fattispecie. Sono tutte riconducibili alla condotta di guida. Quindi in queste due fattispecie nuove, ve le ricordate, le abbiamo elencate, è stata anche quella una discussione complicata, i proprietari delle strade non rientrano, a meno che il sindacolo si faccia una gran bevuta, si faccia tutta la droga che vuole, esce per strada, uccide una persona, rientra in quella fattispecie, ma non il manzo proprietario della strada. Non esiste, è una tempesta in bicchiardacche in cui Anci, io ve lo dico perché l'ho detto ad Anci e sto costruendo un ragionamento con loro perché siano più attenti anche, hanno detto una grossissima sciocchezza e se non fosse una conferenza stampa avrei usato un'altra parola. Cioè hanno usato strumentalmente un argomento che non era stato adeguatamente valutato da alcuni organi di stampa che oggettivamente ci hanno fatto la campagna contro da subito e continuano a lavorare contro questa cosa, va detto perché ogni tanto intervengono io personalmente nei quotidiani online per dire guardate che state dicendo una montagna di sciocchezze, lo fanno per distruggere questa nuova norma, hanno preso quella cosa, l'hanno trasformata in un'occasione politica per dire vogliamo dei soldi per la manutenzione delle strade. Guardate che gli si dia, non gli si dia, i soldi per la manutenzione delle strade, ai comuni, cosa su cui io sono favorevole, tant'è vero che in quel codice della strada di cui parlavo, che dormiente al senato da due anni che dovrebbe essere approvato, si parla anche di come si può rispondere al tema della manutenzione. Però loro sono responsabili uguali, cioè non è che cambia, quindi gli si può dare più soldi ma la responsabilità che i sindaci hanno era prima, sarà dopo e continuerà ad essere. Una del pesto in un bicchier d'acqua, una cosa nata per far danno alla legge sull'omicidio stradale che oggi sta avendo alcuni effetti collaterali grazie a tutti.